Tu hai almeno uno, se non di più, cortometraggi col tuo nome, cioè creati da te e fatti da te. Come trovi l'idea per un documentario? Le idee, le idee, tanto mi verrebbe a dire che sono loro che vengono da te. Le puoi cercare, leggendo libri, viaggiando, sicuramente stando dentro in casa tua. Difficile. A volte è la realtà che è più originale della finzione e quindi mi rendo conto Ah, guarda che bello, potrei parlare di questo. In Vice ci siamo dati una missione. Intervistare il maggior numero di professionisti nel mondo video per scoprire la retroscena e il loro successo. Il nostro obiettivo è di arrivare ad almeno 50 professionisti. Che si siederanno qui, al nostro fianco. Non vediamo l'ora di incontrarti dietro questo microfono. Questo è Beyond the Video. E l'ospite di oggi è... Giuseppe Andreatta! Ta-da! Giuseppe è bellissimo averti qua. Io sono molto contento. Devi sapere che al nostro fianco, al mio fianco, mi piace avere persone con cui non solo abbiamo collaborato, se c'è stata possibilità, ma anche persone con cui abbiamo avuto un momento di crescita, di rapporto, di possibilità di scoprirci. Ci conosciamo penso da due anni. Qualcosa di più. Ed è molto interessante. Quello che a me piace nel momento in cui abbiamo lavorato assieme, quello che io ho scoperto dal tuo lavoro, da quello che tu hai portato nella esperienza che abbiamo fatto assieme, è stata la parte di regia e filmmaking, che è diverso da videomaking. Vorrei che raccontassi un pochino come sei arrivato dove sei oggi. Cioè, come è nato il Giuseppe Andreatta filmmaker. Ma come è iniziato? In realtà tutto parte da voglia di creare, di fare un po' di spettacolo, che è in realtà una voglia infantile. Ok? Quindi vedi la telecamerina in pellicola, vedi che tuo opa fa i filmini di famiglia, vedi che esistono queste cose, e allora magari la prima scintilla può essere nata da lì, da lontano. Poi bisogna fare i conti con quello che ti piace veramente, quello che puoi permetterti di fare, eccetera. Mi piacerebbe pensare che l'inizio di tutto il mio percorso, anche lavorativo, formativo, ossia quando sono uscito io con i miei soldi a comprarmi la prima telecamerina, che in realtà era una Reflex, una Canon. E lì, cosa che mi colpisce ancora, mentre ora per fare un acquisto, sicuramente più dispendioso, ma per fare un acquisto ci metto mesi, perché poi ho tutte le mie pari mentali, a suo tempo mi venne chiesto da amici che si stavano per sposare, ehi ma tu non studi queste cose? Sì, più o meno, insomma. Ma puoi farci un video? Io non avevo niente in mano, già ero all'università, ma mai fatto niente di serio. E nel giro di pochissime settimane, con poco budget, sono andato e mi sono preso la mia Reflex e un obiettivo tutto fare. Questa, diciamo, ignoranza e questa velocità che ho dovuto per forza mettere in campo, un po' la invidio adesso. Spensieratezza anche, perché adesso c'è un calcolo doveroso degli acquisti che fai, delle spese che hai, della tecnologia che utilizzi. Ma un po' di spensieratezza nel poter dire mi butto, mi lancio, calcolo un po' meno, sarebbe un po' piacevole. Ti manca quella parte lì? Senza esagerare. Ok. Com'è andato quel lavoro lì? È andato bene. Adesso è ovvio che riguardando indietro vecchi lavori posso o ridere o piangere. È normale. Però è stato piacevole perché mi ha lanciato. È lanciato nel senso che mi ha permesso di prendere più confidenza con la tecnologia del momento, con le richieste che avevano dalle persone. In quel caso due amici che si sposavano. Ok. E poi andò bene. Mi piace pensare a quel momento. Poi, prima di quel giorno, essendo uno studente del dance a Padova, facevamo workshop, laboratori, ma non mai con attrezzatura mia, sempre sotto una guida, sempre aiutato. Quindi è stata un po' l'esperienza di lancio che ti ha messo con le mani in pasta per provare effettivamente quello che avevi studiato. e molto spesso il passare dalla teoria alla pratica non è così semplice. E quindi anche in queste situazioni è bello proprio sperimentarsi, provare. Ti sei preso un bel rischio perché fare un matrimonio così al volo con una telecamera nuova, tutto nuovo, non è un'idea proprio facile. Senza dubbio. Sì, 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 sì. Ma il rischio me lo sono preso io e la coppia di sposi. Ah, ok. Avendo fatto il Dams, non mi insegnavano come impugnare la camera, e non mi hanno insegnato come seguire gli sposi, come fare la ripresa di una cerimonia. Però apprezzare un'inquadratura, capire come fare un'inquadratura, essere svelti nel farlo, questo sicuramente è una sorta di l'asparogrossa poetica, insomma. Ecco, poi vabbè, quello è un altro universo. Sicuramente è stato un bel rischio. Mi piace quando hai usato la parola poetica perché forse già ci stiamo addentrando nel motivo per cui abbiamo parlato di filmmaker e non di videomaker. Ma voglio ancora aspettare, tenere questa cosa un po' sulle spine. Quindi dopo quel lavoro, stavi facendo il Dams, hai continuato su quella linea di studio, hai continuato a studiare quella cosa lì, quali sono stati i passaggi successivi? Beh sì, per quanto riguarda la formazione, dopo la triennale, mancandomi delle basi soprattutto tecniche, ho cercato un master, un'esperienza veloce, quindi di un anno, e l'ho trovata a Venezia con Ca' Foscari. Questo mi è servito perché io volevo puntare soprattutto sul mondo del cinema, del filmmaking, ho trovato appunto un master in filmmaking. Non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di formarsi, ma per chi vuole comunque muoversi nel mondo creativo, che sia cinematografico, o del videomaking, della videoarte, non so, prima si inizia a fare meglio è. Ok. Ed è vero che c'è sempre qualcosa che non sappiamo, però bisogna iniziare a fare. Facendo, impari, sbagli, fai cose belle, cose non belle, conosci persone, eccetera. Io quindi ho fatto il master dopo e iniziavano già man mano, semplicemente perché la gente sapeva che studiava qualcosa, che aveva visto qualcos'altro, i miei video in matrimonio, mi sono arrivate altre commissioni, alcuni lavori, i primi clienti, ok, e quindi mi sono trovato anche a fare riprese di eventi. E questo, dopo mi sono trovato ovviamente davanti alla necessità di fare ordine, perché comunque sei giovane, lo sono ancora, ma sei ancora più giovane, ancora più inesperto, non sai bene cosa vuoi, c'è molto caos attorno a te, perché comunque bisogna ammettere che la figura del videomaker è molto più recente di quella del, che adesso noi chiamiamo filmmaker, del regista, eccetera, perché comunque anche con l'esplosione di YouTube, 2005, dopo parte la diffusione di massa dei contenuti video, è sempre più facile produrre un contenuto video e di conseguenza nascono anche nuove professioni, eccetera, ecco, questa necessità di crescere mi sono venute quando sono arrivati i primi clienti. Io che ho fatto, ho avuto una formazione soprattutto teorica e legata al mondo del cinema, come mi approccio con clienti, con aziende che non vogliono la recensione dell'ultimo discorsese, ecco, questa è stata un po' la sfida e tuttora c'è. Certo, perché quindi tu hai fatto un percorso indirizzato proprio al filmmaking e dovevi riuscire a portare nella vita quotidiana dei tuoi clienti quello che avevi imparato e quindi anche trovare una bella bilanciamento tra le due cose, mi viene da dire. mi stanno venendo mille domande che vorrei farti. La domanda che ti faccio è questa, entriamo in questo discorso qua. Qual è per te la differenza tra un videomaker e un filmmaker e se ha senso distinguere le due figure? Grazie per mettermi in difficoltà. Sono qua apposta. No, allora, sono tanti gli aspetti, non solo quello che ho detto poco fa che la figura del videomaker è onnicomprensiva ed è medio recente, cioè esiste da una ventina d'anni e soprattutto si muove molto a braccetto con il mondo dei social, cosa che il mondo del cinema e del filmmaking lo usa solo in maniera parallela per sponsorizzarsi, ad esempio. Il mondo del videomaking è composto di sottogeneri, di tantissimi sottogeneri ed è, e possiamo inserire chi fa corporate, video per le aziende, chi si preoccupa di videoarte. Le modalità per esprimersi e per portare avanti il proprio lavoro sono veramente tantissime. Per quanto riguarda il filmmaking, invece, si apre un altro universo che precede quello del videomaking, se così si può dire, che si distacca dall'immagine in movimento. L'immagine in movimento può essere qualcosa di ipnotico. Io adesso uso citazioni, non sono cose mie, però che ho fatto mie, di un altro videoartista e regista che mi ha parlato una volta in una masterclass di questa immagine in movimento della capacità di ipnotica e anche di persuasione e su questo chi sono i principali esperti? Chi fa la pubblicità? Ok? E anche un videomaker, per carità. Il cinema magari non ha per forza questo obiettivo, questo fine, questo orizzonte. Funziona che in un mondo comunque dove stanno nascendo le prime scuole non di cinema, ma di videomaking, sono delle masterclass. Se uno volesse, a costo zero, può accendere YouTube e farsi sei ore di tutorial. E ecco. Di cultura, esatto. Eccoci qua. Sono un videomaker. No. Siamo nel posto giusto! E quindi bisogna un po' fare un po' di definizioni, ma anche e soprattutto parte da quello che vuole fare una persona. Cioè non si sta definendo cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bello, cosa è bello. Certo. Ok. L'importante è capire cosa si vuole fare. Parto dalla mia esperienza, che è quella della formazione cinematografica e ovviamente sono anche a contatto con clienti, con eventi, eccetera. Mi è capitato di recente di far parte di, chiamiamolo così, il linguaggio tra l'altro è lo stesso, di un piccolo set. Benissimo. Per un corporate, anzi un video per i social di un'azienda, non ero io il videomaker, so per dire il regista, ma va bene. Cioè poi si utilizza la parola senza entrare troppo in... Tecnicismi. Tecnicismi, però ad esempio in inglese si utilizza director. Perché? Perché è un direttore di una squadra. È inutile dire director quando tu la squadra non ce l'hai. Ok? Ci sono tantissime cose che devi tenere presente e organizzare, però è interessante tenere questo distinguo. Certo. Ma su questo aneddoto chi gestiva e faceva il videomaker e il principale operatore seguiva anche le cosiddette comparse, cioè i dipendenti di questa azienda. Quando era il momento di girare non era stato molto attento nel spiegare, introdurre le regole di come si fa un video. cioè non solo le preparazioni cioè dove mettere la luce eccetera, ma se io fra cinque minuti siamo pronti io ti dico fra cinque minuti siamo pronti. Quando io dico azione significa una cosa. Senza questa preparazione c'è stato un momento in cui pronti, pronti, ok, azione. Silenzio totale. Te lo faccio meglio. Abbiamo anche gli effetti speciali. C'è un immaginario collettivo comunque di chi è appassionato di cinema nel sapere quali sono i termini tecnici del cinema ciac, azione, ok, ma quando ci si trova si è un po' spesati ma non è colpa di nessuno. È premura di chi gestisce il set, i video, informare la gente che dicendo una cosa succede una cosa. Ad esempio, io moltissime volte invece di dire azione che è un termine conosciuto ma poco utilizzato a lavoro, al di fuori, sì. esatto. Meglio dire vai, cose molto più semplici. Quindi bisogna un po' uscire dall'effetto romantico e piacevole del cinema perché comunque è bello sentirsi parte di qualcosa ma essere terra a terra rendersi conto che se dici azione nessuno capisce. Allora, o lo spieghi prima oppure dici un bel vai. non è sbagliato usare i termini tecnici è che dipende se sei nel contesto giusto che conosci quei termini lì perché altrimenti rischi di mettere un po' più in difficoltà le persone che ci sono e ci sta. È un'esperienza che abbiamo avuto anche noi noi arriviamo dal fatto di aver provato sul campo aver imparato tramite la pratica effettivamente ed è divertente perché ogni tanto Eva comincia a dire questa cosa si dice in un altro modo e ha ragione è ha ragione ed è bello scoprirlo noi siamo partiti dall'altra parte siamo partiti che non ci interessava dire ciaccazione ma dovevamo far partire il cliente mi piace molto parlare con te di questa cosa perché io so che sei stato su tantissimi set nel tempo e con ruoli estremamente diversi e quindi hai un'esperienza che è bella ogni volta che lavoriamo assieme ne parliamo abbiamo avuto modo di fare dei video di prodotto ad esempio assieme mi piaceva la cura delle luci l'idea che avevi la visione il fatto di sapere già prima che cosa fare nella mia testa per me Giuseppe Andreatta è un regista perché quando ti ho visto sul campo sei arrivato con dei fogli con degli schizzi con un'idea molto chiara di storyboard pochissimo era lasciato al caso e questa direzione questo avere tutto sotto controllo per me è già un passo verso il film making cioè il fatto di dire un video molto spesso un video maker è possiamo dire non è corretto quello che sto dicendo però in generale cioè non è che quello che sto dicendo è per tutti però molto spesso un video maker è una persona che si trova nella situazione e qualcosa tira fuori non è sempre così un film maker è una persona che ha tutto sotto controllo o il più possibile perché tutto sotto controllo non si può avere mai ma ha proprio una visione diversa è arrivato con una storia con un'idea che è stata discussa prima con il cliente magari la storia è anche creativa è un po' fuori dagli schemi e so che oltre a questo tu hai almeno uno se non di più cortometraggi col tuo nome cioè creati da te e fatti da te quindi l'esperienza che porti è un'esperienza molto più cinematografica molto diversa che chiaro poi deve essere inserita in un contesto di clienti che magari non sono all'interno di questo mondo che però lo vivono per un pochino wow per un attimo pensavo che stessi parlando di un altro ma ero io no vabbè grazie in realtà la mia è un'esperienza ancora limitata siamo coetanei quindi non sono poi così tanti in realtà i set che ho avuto modo di vivere anche se non fare il modesto no però e tutti sicuramente mi hanno formato mi hanno plasmato e sono contento il rischio d'oggi e non riguarda solo il nostro lavoro è che bisogna essere tutto fare bisogna sapere tutto soprattutto il videomaker se un set è fatto da mille persone mille tante persone che ognuna ha il proprio ruolo il set del videomaker è ai 15 ruoli eh sì 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 per diversi motivi primo perché il mercato lo richiede secondo perché il cliente non ha budget terzo perché è bello e fa bene sapere di tutto però un videomaker deve essere tutto ok certo dipende poi a che livelli sei arrivato quanto ci tieni a farti un mazzo così e bla 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 milioni di cose il cinema è strutturato diversamente ognuno ha il proprio ruolo anzi guai è che si calpesta i piedi ok ma non è per forza un bene ci sono aspetti positivi aspetti negativi per quanto riguarda il videomaker c'è anche un po' una sorta di senza questa è una cosa personalissima sensazione di inadeguatezza cioè finché non sei fonico finché non sei direttore della fotografia finché non sei elettricista finché non sei psicologo perché no ti come dire ti precludi alcune strade alcune possibilità perché comunque è vero devi essere anche imprenditore di te stesso devi lavorare sulla tua immagine io sono pessimo su questo lo posso dire sono sui social su instagram da forse meno di due anni e mi pesa un sacco condividere quello che faccio no mi pesa un sacco entro nella legge della condivisione ma comunque l'ho fatto praticamente solo per lavoro questo quindi sono pronto anche a sputtanarmi in questo modo ma non so se è troppo prematuro dirlo ma se dovessi dare alcuni consigli a chi vuole fare videomaker o a chi è l'inizio direi subito formazione sperimentazione originalità nel senso che oltre al mio video vengono sputati milioni di altri video e probabilmente sono quasi tutti uguali al mio se non più belli certo e quindi da questo punto di vista dico originalità altre volte quando c'è una nuova tecnica per cui adesso vanno forte esempio i video con un grand'angolo enorme un grandissimo grandissimo grand'angolo bisogna anche saper parlare per fare il videomaker e allora il cliente ha visto questo video vuole un video come questo e allora devo adeguarmi cioè non c'è niente di male su questo aspetto qui mi piace il devo adeguarmi che apre anche questo un mondo di cosa vuol dire devo adeguarmi però penso che sia proprio la crescita continua proprio per il fatto che si incarnano tanti ruoli diversi più sei freelance o più sei singolo e più devi incarnare tanti ruoli e più devi studiare e ogni mondo che esplori può essere vastissimo perché poi quando si arriva a livelli se si arriva e quando si arriva a livelli di cinema o di set costruiti veramente la persona è molto specifica e sa esattamente cosa sta facendo deve sapere esattamente cosa sta facendo in merito a questo mi piacerebbe puntualizzare una cosa cioè non è detto che più uno diventa bravo più uno ha i mezzi e anche se toglie alcuni sassolini dalla scarpa e più deve assomigliare all'approccio e al settaggio cinematografico ok ok cioè bisogna distinguere che ci sono anzitutto passioni diverse ruoli diversi e anche tempi diversi non bisogna né andare troppo lì con l'accetta e dire da qui in poi i videomaking da lì è cinema e non nemmeno ho detto che sia bipartito questa cosa questo aspetto ma dall'altra parte nemmeno ostinarsi a dire bene quello è il top dove mi vedo fra vent'anni con è chiaro vabbè se ho più budget più persone con me è ovvio che la cosa si si frizzantizza diciamo così è più interessante però non andiamo avanti con l'idea che l'evoluzione del videomaking o meglio dipende come la vivi ok se tu pensi che la tua evoluzione sia prima lavorare con clienti e dopo lavorare invece per qualcos'altro ok però non è l'una non è l'evoluzione dell'altra apro un altro discorso da questo punto di vista che a me interessa molto tu ti occupi di diversi settori nel tuo essere freelance quindi e ti chiedo quali sono questi settori per te le cose che faccio che ho fatto io appunto mi approccio con i clienti e quindi c'è più l'aspetto videomaking nudo e crudo diciamo poi io ho una grande passione per il mondo del documentario per cui ho fatto ho avuto la possibilità in maniera quasi casuale quasi di lavorare su piccoli set per documentari che dopo sono andati al cinema o nelle piattaforme addirittura come fonico quindi non ho mai preso in mano una videocamera e ho imparato a fare fonico quando c'è stata la possibilità di fare elettricista ho fatto elettricista e ovviamente sto spingendo molto per creare continuare a creare documentari cortometraggi documentari quindi opere di 15-20 minuti per fare questo lo ripetono all'infinito nelle scuole di cinema bisogna fare 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 prendere e uscire e riprendere senza come dire scoraggiarsi ma senza farlo all'infinito c'è un momento in cui quel genere di sperimentazione è determinare ok e fare altro e devi passare ad altri obiettivi per continuare ad avere stimoli nuovi vedere cose nuove provare cose nuove senza dubbio giusto sì 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 quindi secondo te per essere un bravo filmmaker che anche questo termine è molto ampio però per arrivare da qualche parte tu sei più per essere un generalista quindi vedere tanti settori diversi anche del video making o secondo te ha più senso specializzarsi e dire io voglio fare solo quello verticale su quello allora io direi il secondo cioè essere verticale un movimento verticale e avere subito le idee chiare anzi quello che io ho un po' rimpianto diciamo è che ci sono arrivato un po' tardi ma non perché faccia male vedere tutto e fare tutto anzi io consiglio e anche sprono a potersi lanciare cioè evitare più no possibili dire sempre di sì alle occasioni che ti arrivano perché comunque impari e soprattutto conosci persone ma appena capisci cosa vuoi fare buttati qualsiasi cosa tu voglia fare su quello io ho sempre in mente una mia cara amica che ha fatto il master con me in filmmaking a Venezia e prima veniva da un corso di lingue quindi cinese non sapeva niente ok e durante il master ho capito che le piaceva fare il direttore della fotografia la direttrice della fotografia ok e allora nei nostri corti nella nostra formazione lei anche si proponeva per questo ruolo terminato il master si è buttata a capofitto in una scuola a Roma e ora non si perde un set in Italia e all'estero anche ma set grossi insomma e quindi ora ha delle competenze incredibili ma mirate su quello che vuoi fare quindi prima capisci quello che ti piace e prima fai in modo che tu possa fare quello che ti piace fai all in su quello esatto sì poi dipende cioè ripeto nel momento in cui io invece mi trovo davanti al cliente o davanti al computer per montare allora dico bene adesso devo fare un nuovo corso per Da Vinci Resolve oggi devo fare un corso invece per l'editing audio oggi devo fare un corso per come presentare il mio preventivo perché le skills devono essere tante io personalmente sto facendo questo percorso sto cercando di fare solo una cosa e qual è la tua cosa su cos'è che faresti o hai fatto o farai all in la cosa che mi ha catturato di più sono proprio i documentari come approccio come lavoro come aspetto creativo questo è quello che vorrei fare allora si parte dalle piccole cose io ho sbagliato ho fatto un po' il contrario sono partito dalle grandi cose che devono ancora essere terminate ma questo è un altro argomento partire dal piccolo spremi il più possibile premi l'acceleratore e quando capisci che non sei più inesperto allora osi un po' di più interessante voglio strizzarti come una spugna sul fatto dei documentari adesso che è molto interessante perché i documentari dal mio punto di vista sono belli complicati la prima domanda che ti faccio è come trovi l'idea per un documentario come crei la storia come hai quel click che ti fa dire questo è quello che io desidero raccontare rischierei di dire tantissime frasi fatte ok perché comunque quello che è già stato detto tutto ed è difficile soprattutto per uno come me insomma ho 31 anni non ho 20 anni di esperienza dietro ed è facilissimo comunque essere banali o essere fraintesi però le idee le idee tanto mi verrebbe a dire che sono loro che vengono da te le puoi cercare leggendo libri viaggiando sicuramente stando dentro in casa tua difficile sì Werner Herzog regista tedesco il mio preferito documentarista soprattutto nei corsi cinematografici lui diceva chiedevano a lui consigli per iniziare per fare bene il proprio lavoro lui diceva viaggiate ok state fuori e camminate tantissimo lui ha camminato tantissimo ok ho detto che le idee trovano ma è più che altro perché non è che mi sforzi di trovarle ok a volte è la realtà che è più originale della finzione e quindi mi rendo conto ah guarda che bello potrei parlare di questo e mi succede centinaia di volte al giorno no però centinaia di volte all'anno insomma ma poi quello che poi riesco a fare è pochissimo che ho fatto adesso è pochissimo bisogna quindi essere lucidi a investire il proprio tempo sulle cose giuste bisogna anche parlarne con i propri colleghi i propri amici capire se la cosa può funzionare e soprattutto fare i conti con con l'aspetto economico nel senso che sono tutti i progetti per cui i soldi te li devi trovare questa era la seconda domanda non c'è il cliente o meglio ci sono alcune dinamiche che funzionano invece così cioè c'è un cliente che vuole raccontare o raccontarsi in maniera diversa perché comunque siamo in un mercato saturo quello dei social e si dice no basta reels basta video abbastanza comuni investiamo su qualcosa di diverso che può andare anche in circuiti differenti che possono essere i festival che possono essere eventi privati eventi pubblici cinema eccetera eccetera e ci raccontiamo in un altro modo e ci affidiamo a un artista come trovi i fondi per poter affrontare ci sono i bandi ovviamente ci sono gli sponsor ok tu proponi un valore tu proponi una storia c'è qualcosa in comune tra te sponsor e questo questa storia c'è un valore che vi accomuna ok c'è anche questo metodo mi è stato raccontato da produttori che c'è anche la possibilità di bene ho una storia ovviamente è più un soggetto che una storia cioè è il principio di una storia che può essere raccontata la faccio molto veloce ho un ventaglio di aziende ok che hanno interesse nel approfondire la propria azienda attraverso uno storytelling e quindi niente si propone in questo caso la casa di produzione propone a questi sponsor che si fanno promotori di di arte anche di un messaggio di un valore nel loro caso e tu regista riesci a a realizzare il tuo cortometraggio il tuo lungometraggio eccetera ecco però ci sono diversi modi le case di produzione non si muovono proprio le grosse produzioni non si muovono in questo modo però nel mio piccolo per i miei progetti ovviamente puoi iscrivere a una casa di produzione che dopo ovviamente sarà loro in maniera alternativa a quella precedente che ho appena detto trovare i soldi quindi ci sono i bandi ci sono i fondi regionali statali eccetera chi più ne ha più ne metta non è molto semplice il punto è chi esce dalle scuole e vuole fare questo percorso ha gli strumenti le competenze le conoscenze per potersi lanciare in questa avventura non è facile no io sono molto sensibile a questa cosa e sono molto anche scettico perché non c'è un percorso univoco che non è un problema in sé ma non c'è un percorso che dia più sicurezza e più certezze a chi esce dalle scuole di cinema c'è secondo me una lacuna tra terminati gli studi e il farsi da solo o essere aiutati e con nulla nessuno ti regala nulla certo diciamo che la lacuna è forte nel senso che la parte teorica è sempre in teoria funziona così la parte pratica funziona in modo diverso perché il mondo evolve le aziende sono diverse la difficoltà a volte è avere il coraggio di andare a parlare con queste persone che non è scontato è un bel esercizio di stile personale anche mi viene da dire assolutamente ma infatti prendendo sempre parole di altri regista non si nasce si diventa grazie ma cosa significa nessuno ti dice che come devi farlo o perché devi farlo eccetera però sicuramente se tu questa mattina non ti alzi dal divano non farai un tubo cioè sei tu che in un certo senso ti autodetermini se tu dici fantastico ho letto questo libro voglio raccontare di questo pittore so che questo pittore vive nelle marche nessuno viene a suonare il mio campanello a dire a dirmi ehi vai nelle marche eccetera sono io che mi in un certo senso autodetermino prendo vado nelle marche eccetera vengo a scoprire che sono questo è un esempio stampalato però vengo a scoprire che nel giro di uno o due anni grazie a superluoghi grazie a riprese sono uno dei pochi conoscitori di questo pittore ok non è una cosa da poco benissimo come lo facciamo fruttare e dopo si parte cioè bisogna c'è tanta autodeterminazione questo è poco non sicuro e non solo per il regista perché noi stiamo adesso sto parlando di questa cosa ma di molte altre professioni però diciamo che hai diverse difficoltà davanti e quindi l'unica è prendersi lo spazio il tempo la voglia il coraggio di affrontarle una alla volta infatti per questo la difficoltà del mondo dell'arte o di tutti quei lavori che sono un po' complicati perché manca un percorso lineare ok che è un po' già tracciato è che deve essere pronto a alcune cadute alcune capitomboli che che magari non sei pronto ad accettare ok cioè sei pronto a cadere più volte a prendere un ritmo lento nell'ingranare col tuo lavoro eccetera anche il mondo dell'arte è un po' così ma puoi essere anche un pittore un musicista com'è che sviluppi poi la storia com'è che dall'idea arrivi a dire ho bisogno di questo faccio questo faccio quell'altro è una cosa che sviluppi prima ti viene nel mentre sviluppi prima e poi ti viene nel mentre ti viene dopo quando montato tutto dici mi serviva questa ripresa ognuno ha il proprio metodo a me piace assolutamente conoscere guardare vedere chi ho davanti che sia una persona o che sia una realtà ecco perché non sempre c'è un personaggio e oltre a questo che è quello che tu prendi è anche quello che tu dai cioè se tu invece hai proprio una persona davanti devi lavorare affinché questa persona possa essere tua amica tu possa essere come dire non solo amico ma in relazione cioè non sei un accidente che entra una scheggia che entra nel suo occhio ma una cosa che faccia parte della sua esperienza e qui vabbè le scuole cinema ti raccontano milioni di questi esempi di registi che dopo mesi finalmente riescono a entrare un po' nella vita dei propri personaggi nella vita ovviamente documentari e allora lì inizia il bello non che prima sia brutto però però cambia se è una fase preliminare necessaria c'è chi invece prende e gira subito e non è detto che sia sbagliato dipende anche cosa si vuole fare il tempo l'esperienza eccetera eccetera Beppe io adesso vorrei chiederti un esempio pratico o meglio non è chiederti è farci raccontare quello che per te è il foresto cos'è il foresto innanzitutto grazie allora il foresto è una storia che ho in mente che sto affrontando dal 2015 nel senso che dal 2015 ho scoperto la storia di un illustratore considerato uno dei più grandi del secolo scorso in Italia questo signore di nome Giorgio De Gaspari lavorava per l'allora Corriere della Sera e a un certo punto aveva più o meno 40 anni decise di mollare tutto quanto sparire non solo da Milano ma proprio dalla circolazione nessuno sapeva niente di lui e inizio anni 60 in un'isola che è l'isola di Pellestrina Laguna Veneta sotto il Lido anni 60 un'isola ok significa che nessuno sapeva niente di lui significa che comunque eravamo in un periodo in cui principalmente i lavori in quella zona erano muratore pescatore tuttora c'è anche questa prevalenza lavorativa e in più lui si atteggiava si presentava come un barbone per cui questi elementi fanno sì che nessuno si sia mai accorto che a Pellestrina era venuto ad abitare oppure vagava il più grande illustratore del secolo scorso venne chiamato Foresto Foresto significa estraneo straniero ok e da qui Giorgio Foresto lui pian piano iniziava anche a firmarsi nei suoi quadri perché lui definirlo solo illustratore lo riduce perché è un grande uomo di cultura ma anche maestro dell'acquerello di qualsiasi cosa che lasci un segno anche il caffè ha fatto disegni dipinti col caffè col fango con colori con qualsiasi cosa era anche uno sperimentatore assolutamente sì e viveva questa sua povertà perché lui si è autoimposto di vivere da vagabondo da povero barattava le sue opere i suoi quadri per qualcosa di prima necessità cioè frutta verdura un alloggio ecco è una persona che aveva anche senso della gratitudine per cui non voleva rimanere in debito ma anche grandissimo senso della propria bravura del proprio genio per cui lui non svendeva nulla cioè non è che i suoi quadri che valevano anche migliaia di euro li dava così ok quando arrivò a un certo punto il gallerista di turno il giornalista il collega lui si nascondeva cioè lui non voleva più avere a che fare con la fama con l'arte nel senso con l'esposizione dell'arte ok anzi le sue gallerie sono diventate nel giro di 40 anni lui è morto nel 2012 sono diventate le case dei pelestinotti dei suoi amici dei paesani di pelestrina e io ho conosciuto questa storia mi sono un po' dilungato grazie a un mio amico suo potremmo dire vicino di casa perché lui dopo nel tempo foresto è andato a vivere in una palafitta sull'acqua i cosiddetti casotti che venivano utilizzati dai pescatori per allontanare le reti puzzolenti dei pesci fuori di casa ok quindi questo casotto a 10 20 30 metri in laguna dalla dalla riva lui si è impossessato facendosi aiutare cioè non ha rubato nulla anzi ha preso in prestito questo casotto da un amico e l'ha trasformato in in un'opera d'arte in quella che alcuni artisti chiamerebbero la mertzbau cioè questa questo ammasso di oggetti che vanno a creare io rubo la parola di questo mio amico che ha conosciuto il pittore un atelier perché lui si rifugiava lì d'estate quando ovviamente faceva bel tempo per dipingere per prendere ispirazione eccetera però era un ammasso di oggetti che lui buttava continuamente sopra non era una discarica tutto fuori che una discarica e questo mio amico mio coetaneo ha voluto scrivere di lui e il primo libro è uscito nel 2015 io ero ancora uno studente di cinema e subito alla presentazione del libro dissi ok un giorno farò qualcosa su di lui non avevo le competenze le energie non sapevo da dove partire quindi feci un primo tentativo per un piccolo concorso perché è importante comunque anche lanciarsi e allora realizzai un cortometraggio di un minuto due minuti la tematica era la luce la tematica del concorso e allora ho detto ma sì dai racconto Giorgio Foresto e su youtube non andate a cercarlo subito da domani mille mila visualizzazioni e nel frattempo io negli anni mi scrivevo appunti per questo possibile documentario cioè il cellulare o delle note in giro mi scrivevo degli appunti e 2019 andai da questo mio amico per dire dai raccontami un po' di più di questo Giorgio Foresto la cosa morì subito cioè un giorno e basta arrivò il covid e come è successo tantissime persone e il covid è stato anche comunque un modo per dire basta ad alcuni rinvii e lanciarsi in alcuni progetti e quindi a giugno luglio del 2020 iniziai a fare i primi sopralluoghi con questo mio amico Pellestrina a conoscere le persone e già lì stava succedendo qualcosa che per me era incredibile era interessantissimo era anche uno dei miei primi progetti fatti in questo modo non sapevo dove stavo andando non sapevo cosa volevo raccontare se non la storia di Giorgio Foresto ed era vabbè aneddoti su aneddoti insomma tu vai in giro con una videocamerina e un trepiede la gente ti chiede se sei la Rai se sei TV2000 o quello che è allora no sono qui per Sky alcuni neanche ti potrebbero capire perché e quindi la cosa è andata avanti e tra il covid e comunque le mie incertezze e il fatto che non avevo nessun budget perché ero partito io da solo le riprese sono durate due anni io ho finito di girare nel settembre 2022 e nel frattempo non successe alcune cose mi ero convinto di alcune cose e avevo abbandonato alcune piste cioè che non potevo escludere la storia di Giorgio Foresto dalla storia di Palestina cioè le due cose il territorio e il mio personaggio dovevano andare insieme anzi erano due personaggi che dovevo assolutamente anche inserire un veicolo diciamolo così che mi potesse fare da cicerone lo sto sminuendo però è proprio un veicolo che mi ha aiutato ed è il mio stesso amico cioè nel frattempo questo mio amico ha iniziato a scrivere il secondo libro su Giorgio Foresto e ho detto ma perché non racconto Giorgio Foresto e Pellestrina attraverso il tuo racconto cioè la tua sfida letteraria e di conseguenza le sue sfide personali che erano le mie perché io e lui volevamo raccontare la stessa persona ma nel mezzo c'era mi vorrebbe dire tra dire farci al mezzo mare lì c'era la laguna io alle prime armi lui alle prime armi ma sicuramente più navigato di me ci siamo lanciati l'approccio è sempre stato quello di andare con altre due persone un secondo operatore e un fonico amici ma attenzione perché se mi sembrava una vetta altissima quella di partire e girare e qui il discorso che facevo prima nessuno mi diceva alzati dal letto e vai fatti due ore di strada in macchina prendi il traghetto eccetera e vai a Pellestrina portati l'attrezzatura in spalla rischi l'attrezzatura che si bagni eccetera esatto superata questa vetta ne è subentrata un'altra che in realtà doveva arrivare prima ossia l'aspetto produttivo non solo economico ma proprio di realizzazione del cortometraggio perché finché si trattava di chiamare l'operatore mettersi d'accordo con il fonico chiamare il mio amico capire se fosse libero il personaggio perché noi andavamo di casa in casa intervistare non solo eccetera questo vabbè riuscivo a organizzare ma l'aspetto produttivo in realtà deve venire prima prima sai se hai le possibilità i soldi come esce come lo distribuisci come l'hai pensato per quale genere di pubblico chi deve vedere questa cosa il problema è che io non potevo considerare queste cose intanto perché ora che insomma avrei potuto crepare di vecchiaia se avessi insomma aspettato dei fondi degli aiuti eccetera ma anche purtroppo qualche personaggio è mancato durante il percorso delle riprese nel senso che io ho avuto a che fare anche con alcuni anziani teniamo conto che il foresto aveva la sua età ok è morto a 80 anni ecco e quindi i suoi coetanei ancora vivi però hanno un'età avanzata nel frattempo durante le riprese durante questi due anni è mancato qualcuno e alcuni li ho ripresi altri no poi è anche vero che i documentari hanno bisogno di tantissimo tempo tantissimo tempo realizzativo e produttivo cioè se tu porti una tua idea possono passare anche cinque anni prima che quell'idea sia realizzata e quindi la gestione del tempo può rovinarti ma anche devi essere motivato devi ricalibrare le tue motivazioni e il tuo progetto eccetera il bello ed è quello che piace a me è che io devo essere perennemente in ascolto di quello che vedo di quello che sento e devo lasciare spazio all'imprevisto non imprevisto inteso come il trepiede si spacca oppure abbiamo perso la coincidenza dell'autobus ma l'imprevisto è quello che mi può proporre il personaggio quello che è diventato il personaggio quello che è successo tra personaggi cito un'altra cosa io non sono un ultra citazionista ok bisogna sempre limitare c'è un po' il vizzetto nelle scuole di citare 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 ci si perde però gli esempi se servono per misurare quello che facciamo servono se no buttate via è spreco di di memoria e di tempo durante la realizzazione di un altro documentario due personaggi stavano assieme nella realtà durante la creazione del documentario durante le riprese questi due personaggi sono lasciati cosa fare obbligare queste due persone non attori non professionisti a rimanere assieme no ma non solo dal punto di vista come dire realizzativo fare in modo che una cosa brutta diventi bella ma anche dal punto di vista narrativo questa cosa può arricchire la mia storia si spera di sì in quel caso è stata una mossa curiosamente vincente nel mio caso riprendere un personaggio del documentario foresto che non è ancora stato montato devo essere chiaro zero totale o no 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 siamo siamo a buon punto però non è ancora stato terminato completato esatto io ho ripreso un personaggio che dopo due settimane è mancato una persona anziana una persona malata e tra l'altro forse il personaggio più importante uno dei personaggi più importanti io per me è stato un duro colpo anzitutto per la mancanza di questo che era un amico però è stata una cosa importante uno lo può interpretare come vuole è un segno è qualcosa che mi deve motivare o cosa sicuramente io ho pensato se avessi aspettato perché sto parlando di agosto 2020 se avessi aspettato io non avrei più portato con me questo bagaglio molto ricco dopo c'è stato una location è cambiata per cui un bar centrale per la vita di tutti i giorni del foresto io ho fatto in tempo a vederlo in un modo dopo due anni è stato stravolto perché per cambio di gestione di direzione delle persone qualcuno non voleva farsi vedere altri sì qualcuno non voleva raccontare il foresto altri sì e quello che andrò a raccontare probabilmente durerà un'oretta è anche troppo è un lungometraggio eh sì assomiglia più a un lungometraggio ed è un po' quello che dicevo all'inizio cioè iniziamo con quello che è a nostra misura sbagliamo n volte e dopo ok è stato forse un passo un po' troppo lungo quello di iniziare con non il foresto ma con qualcosa che duri un'ora poi se magari col montaggio riesco a portarlo a 30 minuti ok però io ho fatto due anni di riprese ora siamo fine 2023 il cavolo che viene corto esatto e vabbè fai esperienza qual è il momento più difficile e il momento più bello di questo documentario è pura anedottica e forse anche banale una mattina devo riprendere l'alba e la nebbia febbraio più o meno 2022 si parte alle 4 di mattina da casa buio mi accorgo che non avevo le schede SD vabbè mancano 20 minuti non torno a casa vado e lo trasformo come un vero sopralluogo cioè vado guardo e la prossima volta so come muovermi ho trovato l'alba più bella della mia vita ok non l'ho ripresa chiaro cosa che se avessi avuto un super mega cellulare probabilmente insomma avrei forse anche raccolto qualche materiale però non avendo il cellulare non avendo i mezzi ho detto bip ok ho detto qualcosa è stato un enorme dispiacere però lì ho preso le misure per la settimana dopo sempre per il discorso di autodeterminarsi e lì è stata una spiacevole avventura la settimana dopo ho ripreso comunque la mia alba con la nebbia meno carina ma comunque l'ho fatta ecco questa è una cosa di realtà da poco se avessi stato molto più grave se avessi avuto un evento unico perché dopo abbiamo ripreso anche delle gare di delle regate esatto mi suggerisce la regina volevo utilizzare il termine tecnico della barca che utilizzano perché sennò mi ammazzano se dico canoa però vabbè una regata storica e se mi fossi dimenticato la scheda una batteria scarica sarebbe stato diverso assolutamente ogni giorno poteva essere bello perché comunque era un giorno in più rispetto a quello precedente devo dire che la cosa andava avanti ma questo comunque lo vivo tuttora perché il documentario non è finito e quindi manca ancora molto quando sarà pubblicato e dove questo documentario non posso rispondere non perché non voglio ma perché siamo in una fase in cui proprio perché ho saltato alcuni preliminari ora la vita si fa più difficile una cosa importante che i film invecchiano invecchiano nella propria testa è importante che prima che sia troppo tardi esca magari mutato magari diverso da quello che avevo pensato in origine non è detto che sia una cosa negativa però deve deve andare io lo voglio portare ai festival quindi per me quello è l'obiettivo non saprei le tempistiche prima mi ero dato le tempistiche le tempistiche vengono sempre date a lungo termine però con dei paletti ero partito con bene realizzo il trailer entro entro tot data ci ho messo un anno in più perché perché a quel punto ho detto finisco tutte le prese poi faccio un teaser un trailer i trailer adesso c'è però ho anche ripeto un premontato che dura un'ora e mezza però non è il montaggio finale ovviamente io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso questa cosa anche perché so che non è facile e ti ringrazio di aver condiviso proprio il tuo processo tutto quanto le difficoltà le parti belle le parti meno belle il fatto che in questo lavoro in questo progetto in questa missione che stai portando avanti hai imparato anche tu ci sono degli sbagli li stai affrontando adesso quindi è molto bello io sento qua ok una pressione da parte di Eva la nostra la nostra ragazza la nostra collaboratrice che so che ha domande per te ce le sento sento proprio una pressione sopra di questa cosa quindi lascia un po' di spazio a lei di questa cosa qua fate finta come se io non ci fossi più lascio voi allora innanzitutto grazie mille io ho sentito retroscena è stata una puntata sicuramente molto interessante e volevo complimentarmi veramente perché anche io vengo da una scuola di regia e di sceneggiatura e mi sono sentita dire come penso sia successo anche a te che in Italia è molto molto difficile fare strada nell'ambito del cinema che siano cortometraggi che siano film che sia anche semplicemente partecipare a una serie televisiva e quindi niente sono veramente contenta di sentire qualcuno che ci è riuscito e e niente bravo e vai bravo veramente no no c'è tantissima strada è anche importante dire che per ora non sono arrivato da nessuna parte vado per tentativi ne discuto con tantissimi miei amici che sono nel mio stesso percorso al mio stesso punto e non mi definisco anzi assolutamente no non mi definisco arrivato o cosa cioè anzi le soddisfazioni sono arrivate e dopo quando raggiungi una soddisfazione vuoi qualcosa di più qualcosa di più eccetera sicuramente non ho più lo sguardo di chi è al primo secondo o terzo anno di università o chi è appena uscito dal percorso di studi sicuramente no quindi grazie ma comunque nel senso siamo molto più vicini di quanto tu possa immaginare per quanto mi riguarda cosa posso dire non mi hai formulato una domanda ma secondo me la domanda è stata cioè nella mia testa come sei riuscito a mettere da parte le tue insicurezze perché ovviamente eri le prime armi e a mutare un po' quella voce che molti si sentono dire ok forse non sei pronto c'è qualcuno che sa fare meglio di te quella vocina ci sarà sempre qualcuno sa fare meglio di te e tanti tantissimi qui si può anche affrontare la cosa come se dal punto di vista un po' più esistenziale cioè sono tagliato per fare questo però lasciamola in disparte riprendo un po' quello che ho detto prima cioè è importante capire a meno che tu non sia non abbia i tuoi soldi da investire cioè ne abbia tanti a meno che tu non sia figlio di qualcuno che lavora nel settore e quindi abbia senza nulla togliere ma qualche agevolazione che io non ho avuto a meno che tu non sia in una situazione privilegiata a 360 gradi c'è tanto che devi fare per questo è importante capire subito cosa ti piace perché noi oggi abbiamo parlato di videomaking di cinema di regia eccetera ma c'è tantissimo altro ok capisci cosa vuoi fare e ti butti e questo vale per qualsiasi mestiere qualsiasi passione in Italia io non conosco molto l'esperienza all'estero però so che in Italia l'Italia è romano centrica cioè Roma per buoni e ovvi motivi al centro dell'industria siamo fortunati che adesso in questi anni in Veneto si sta muovendo qualcosa grazie alla Veneto Film Commission e quindi se uno vuole avere qualche info o vuole addentrarsi consiglio di iscriversi al database della Veneto Film Commission nel sito facilissimo io sono partito anche da lì e può esserci un aiuto da quello altrimenti io dico vuoi rischiare vuoi voltare pagina vuoi iniziare a bomba cioè quindi andare dove ci sono tanti lavori vai a Roma qualsiasi cosa tu voglia fare nel mondo del cinema però ok qualsiasi cosa non sto parlando solo di regia non sarà sicuramente una esperienza negativa difficile perché sono andato molto spesso anche io a Roma non per lunghissimi periodi esperienze del set poi ti mettono alla prova soprattutto se sei giovane se sei alle prime armi ma lì è un buon campo di battaglia e dopo uno magari dopo due tre anni si fa le sue esperienze e dice no voglio fare altro benissimo sia in tempo ciò non toglie che comunque il Veneto sia un'ottima un'ottima location per base di partenza esatto assolutamente ma non solo anche a Venezia ci sono un sacco di film di produzioni io ho iniziato con Venezia quindi sono l'esempio di questa cosa qua capisci subito cosa ti piace capisci come cerca di capire come ottenerla fatta aiutare chiama scrivi cerca di ottenere dei no se non ti rispondono alle mail meglio avere dei no che delle non risposte non si può essere amici di tutti quanti non si può essere il più bravo di tutti però dare però comunque dare il proprio contributo farsi piacere cioè fare ciò che piace sì è fattibile ripeto dopo una riflessione bisogna sempre farla anche con il percorso di studi con il percorso di formazione su quello sì magari c'è bisogno di una riflessione ad ampio raggio in Italia cioè capire bene se i corsi che ci sono adesso possono essere utili io ho iniziato con una triennale che mentre ero dentro la criticavo molto quando sono uscito ho detto avessi studiato di più oppure avessi approfondito alcune cose poi il dumps nel mio caso è un percorso teorico critico storico del cinema a parte alcuni laboratori nessuno mi ha insegnato a prendere una videocamera a capire qual è la cosa migliore eccetera e quindi devi senza paura lanciarti non so se ho risposto sì no grazie mille grazie a te veramente mi riprendo mi riprendo la scena io penso che ci sarà un'altra puntata con te perché è molto bello quello che Eva ha chiesto a te e che secondo me vorrebbe ancora chiederti che abbiamo stoppato così ma sarebbe proprio bello approfondire queste tematiche qua che sono tematiche estremamente attuali detto questo io ti ringrazio tantissimo come sempre dobbiamo parlare 25 minuti non riuscirò mai a parlare più di 20 minuti cosa dico siamo arrivati a un bel tempo è colpa mia veramente grazie della tua esperienza ho altre mille domande che vorrei approfondire più nella parte di videomaking che di filmmaking in questo caso le teniamo per una puntata successiva quindi grazie 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 di essere stato qua noi ci vediamo e ci sentiamo e ci ascoltiamo alla prossima puntata e scopriremo qual è il prossimo ospite ciao ciao vorrei andare nel foresto adesso posso? pensavo mi dici se voglio andare in bagno quanto tempo abbiamo? non so neanche quanto sia passato io cioè per me sembra di essere qui da sei ore porco Giuda cambia mestiere io non dovevo dire di sì vai grazie per averci seguito fino a questo punto scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social trovi i link in descrizione